buonasera dalla redazione di florence multimedia in studio marco gargini iniziamo dalla 1 dove ci sono code in uscita incisa reggello provenendo da bologna rallentamenti tra calenzano sesto fiorentino e il bivio con la variante di valico in direzione bologna in a11 code tra firenze ovest e prato est in direzione pisa sulla fippili code a tratti tra la strassigna e firenze scandici in direzione firenze code in uscita san miniato e in uscita santa croce sull'arno entrambe provenendo da firenze a firenze proseguono i lavori di sostituzione dello sparti traffico centrale in viale gramsci stanotte in orario 21 6 chiuso il tratto da viale gramsci a viale segni in direzione del piazzale donatello muoversi in toscana info è un servizio in collaborazione con regione toscana città metropolitana e comune di firenze buon viaggio grazie a tutti